Buongiorno Arcade! Amici e amiche di Kenobisboc, io sono Kenobit, questo qua sotto, anzi lo vedete qua, questo è il mio Arcade Stick, questo è il mio caffè e questo è Buongiorno Arcade, la trasmissione dove tutte le mattine dalle 8 e mezza circa ci mettiamo a giocare a un gioco o a più giochi Arcade. Oggi giochiamo ai X-Men Konami 1992, perché il mio socio Babici in questo momento è via per lavoro, quindi faccio un buongiornissimo solitario per questa settimana e visto che è la settimana degli Avengers ho pensato di buttarla sui supereroi, un tema facile che in realtà non sempre abbiamo affrontato qua su Kenobisboc. Quindi, guardate che intro! Io tra l'altro lo ripeto, l'ho detto ieri, lo ripeto ancora oggi, non sono un grande esperto di fumetti e supereroi, non ho i peli sulle braccia come Wolverine, ma apprezzo i picchiaduro a scorrimento. Spiff, saluti da San Francisco e quella è una chitarra, sì, te la mostro così perché è la mia chitarra preferita, è una chitarra abbastanza supereroi. Mi si è staccato questo, vediamo, è una Flying V, è una Flying V, è la mia chitarra preferita e le voglio molto molto bene. Quindi, grazie per il follow, ripeto, non mi stanno funzionando gli alert e la chat, ma io vi vedo e vi ringrazio e vi voglio bene. Quindi, senza ulteriori indugi, mettiamo un gettone e giochiamo, anzi, vediamo un attimino le opzioni del gioco. qua sul mame, non ci sono di switch, ci sono dei cheat per dopo, che va benissimo. E possiamo iniziare. Di questo gioco, dice giustamente Luca Andreini, c'era pure il cabinato da sei giocatori. Anzi, no, aspetta che ho messo troppi gettoni, perché qua se metto tanti gettoni aumenta le vite. Esattamente, fate un follow anche il prossimo mese quando ci sono gli alert. Su, pronti? Ho rotto il gioco. Su, dai. Dai che i ragazzi stanno aspettando, che abbiamo delle robe da fare, che dobbiamo andare al lavoro. Cioè, solo perché ti ho resettato così mi fai questa moina. Ma insomma. Ah, allora, ti ho fatto venire voglia di giocare con gli emu. Hai il mech, qualche suggerimento. E sul mame è sempre complicato. Più che altro io non ho mech. Come mai non mi sta andando? Te l'ho fatta passare, la voglio giocare con l'emu? Allora, iniziamo con il mio preferito. Che è Wolverine. Allora, su mech, magari c'è qualcuno della chat che ti può dare dei consigli. Però non è banalissima la situazione su mech. Dovrebbe esserci pure per mech il mame. Sì, ma quando avevo il mech non avevo avuto grandi soddisfazioni. Però ecco, open emu, credo. Ho usato la magia, va bene. Ah, guarda che mossa che posso fare. Il salto è sempre in avanti, va bene. Nel frattempo, buongiornissimo a tutti e a tutte. Se vi siete appena connessi, questa è una piccola settimana dedicata ai supereroi in vista degli Avengers. la trasmissione è buongiornissimo Arcade, tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle otto e mezza. L'audio vi va bene così o lo volete un po' più alto? Ehi, la, guarda questi massi come sono realistici. Da vedere c'è del bello, eh, c'è della Konami appagante qua. Un filo più alto. Guarda, lo metto così, là. Ditemi se adesso va bene. Eh, esattamente, mi ricordavo che con open emu mi ero trovato bene sulle console casalinghe. Cioè, mi ricordo che sul fronte NES, Master System, Mega Drive, eccetera, non c'era nulla di cui lamentarsi. Con il, sul fronte arcade invece non ero molto contento. Però, magari la situazione è cambiata. Questo gioco è spettacolare, pezzo di nerd. È vero, è molto bello. Io ho appena giocato malissimo, ma... Però è veramente spettacolare. Anche perché era un'era grafica appagante questa qua, nel senso che poi con... Ma anche direttamente con quello che abbiamo visto ieri, la grafica aveva fatto qualche passo in avanti di troppo a livello di risoluzione e di potenza grafica e quindi veniva a mancare un pochettino quel guizzo di pixel art che... Di cui Konami, tra l'altro, era maestra che era necessario sfoggiare quando le risorse erano ancora limitate. Questo è quel momento bellissimo in cui le risorse dei videogiochi erano limitate, ma non troppo. Cioè, qua si poteva giocare in quattro. Io questo qua mi ricordo che l'avevo visto nella sala giochi di Noli nell'epoca in cui c'era NBA Jam. Tu chi sei? Sei l'uomo riflusso gastrico. Mi fate un recap di cosa avete giocato ieri che ho a Barigi? Ma certo, pezzo di nerd. Ieri abbiamo... Giocato a... Il... Oddio, adesso non mi ricordo nemmeno. Il gioco di... Non era Spider-Man The Game. Continuerò con... Cyclops. Adesso ho un vuoto. Era il... Sempre picchiaduro a scorrimento. Quello con... L'uomo ragno. Con... Il vecchio nudo... Il vecchio muscoloso. Che è... The Mariner. Con... Black Cat. E Okai. Occhio di Faico. Quello... Il picchiaduro a scorrimento. Con però delle fasi in cui zoomava all'infuori. E diventavano dei platform abbastanza dimenticabili. Non mi viene in mente il titolo in questo momento. Ma secondo me qualcuno in chat te lo dirà. Vediamo anche il potere di... Ecco. Fico. Non mi viene veramente in mente. Puoi fare uno spoiler della settimana? Porterà X-Men vs Street Fighter? Assolutamente sì. Ero tentato di... Questa mattina ero tentato da quello... E anche da un altro paio di picchiaduro. Non a scorrimento ma a incontri. Dedicati ai supereroi. Grazie per il follo. E grazie a MSX80 che si è abbonato per 8 mesi. Grazie mille. Sento anche un altro suono di abbonamento. No, era quello di MSX80. La chat è più veloce. Ciao a Sopigliatutto. Faccio il record in Mondovisione. Quello ufficiale di 830 punti. 830 punti di cosa? Aspetta, mi sto confondendo a Sopigliatutto. Mi piace Cyclops. Cyclops. Ah, di score. È così basso il punteggio. È vero. È vero. È perché 830 mi sembrava un punteggio... da poco. Invece no. In effetti vedo che sono a 61. Cioè ogni mostro è... Cioè ogni nemico è un punto. Accidenti. Buongiorno. Ieri era Spider-Man The Video Game. Combo completa. Cosa farei senza di te? Tra l'altro combo ho visto che hai messo... Tutti i... Come si dice? Tutte le playlist su YouTube. Mi studierò un modo. Sicuramente c'è. Vorrei darti i diritti di editor su YouTube. In modo che tu possa, quando le pubblichi, in autonomia, impostarle come messaggio in evidenza. Perché sono un bel servizio per tutti. Spiff, è una domanda alla quale non ti posso rispondere in diretta, ma... Se vieni su Discord abbiamo un canale. Comunque sì, la storia breve, quello che hai detto tu, è l'opzione migliore. Ma soprattutto è una roba che fai una volta per tutte. Lo fai una volta e poi ce le hai. Buongiorno Solid Kid. Quanti cazzotti. Quanti cazzotti. Tanto non so quanti... Non so quanti livelli siano questo gioco. Yes. Ma allora, questo potere mi toglie energia. Vediamo. Aia. Continuiamo. E prendiamo lui. Colossus. Fabio, qualche... Konami usava qualcosa tipo Capcom come CPS1. CPS2. Allora, do un po' di contesto e poi rispondo. Black Cat fa una domanda. Se... Allora, visto che siamo in ambito da sala giochi, chiedeva se Konami come Capcom avesse degli hardware fissi. Per intenderci. Capcom aveva fatto la... La CPS1 e poi la CPS2 che era... Altro non era che un sistema che aveva una base hardware sempre uguale e poi cambiava il gioco. Di volta in volta. Colossus. Il supereroe più schernito da Deadpool. Konami aveva dei sistemi da bar che ha usato più o meno spesso a seconda delle epoche. ma non aveva un reale sistema a cambio di gioco come la CPS2. Come Capcom. E che palle! Adesso vi faccio la mossa. E allora adesso chi ride? Un ascensore. Che picchiaduro a scorrimento sarebbe senza scendere. Però un ascensore moderato. Cazzotti, 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 cazzotti. Tra l'altro volevo ricordarvi che questa sera... Allora, oggi ci sarà il post-brandiale e non ho ancora deciso con cosa. Ieri ho montato tutto il setup. In realtà mi piacerebbe farmi un long play di qualcosa su Mega Drive. E allora chi ride adesso? Che figa sta grafica. La grafica è bellissima. Maffanculo! Attenzione! Sempre Giuliano Ferrara con la mazza chiodata questa volta. Continuerò, certo, ma continuerò questa volta con Storm. Che figa Storm. Ma com'è thick Storm? Ah, si può infierire sulla gente a terra. Ah già. È entrato in fase in mangia gettoni. Shadow of the Beast non lo so fare e se lo faccio senza Lorenzo Cecotti mi leva il saluto. Hai visto che però posso rom... Se uso la magia posso rompergli la presa. Un bel gioco Mega Drive da fare dall'inizio alla fine. Bonus! Ricevi un potere... Ah, il... Ok. You're gonna have to start teaching me Italian in the morning. Good morning! Bezzne! Nice to see you here. You could actually do some Italian lessons in the morning. This is a Konami video game. Un videogioco di Konami. This is a morning regular show. Questo è uno show che facciamo tutte le mattine. Robocop versus Terminator per Mega Drive. Sai che non l'ho mai giocato Luca Andreini? In effetti dovrei trovare qualcosa di super erotico. L'aggettivo è super erotico, eh? Per i super eroi. Hai mai giocato a Beautiful Joe? Certo! Non l'ho giocato su PS2. L'ho giocato su Gamecube. Zannafix. Giochi splendidi. Mi piace Storm. Ha una bella hitbox. Disse lui morendo. Ma proviamo un altro personaggio. Prendiamo... Nightcrawler. Ehi, guarda che potere che ha Nightcrawler. Ah già, che fatica. Devo imparare a... Ok. Non puoi perderti questa perla. È stato il mio più grande affare su Mega Drive. Appena uscito ho pagato 49.000 lire. Robocop versus Terminator. Lo andrò a scoprire. Tra l'altro, se non ricordo male, c'era un gioco sugli X-Men su Mega Drive con musica di Team Geo Fallin. Beautiful Joe giocato alla fine della serata super eroi. Credo proprio di sì, caro combo. Caro combo. D'altro, non so quanto dura in questo gioco. Magari mi sono imbarcato in un long play impossibile. Nel frattempo siamo in 139. E queste sono le api. Mi fanno... Non è che fanno... Le api mi piacciono nel mondo reale. Ma mi fanno un po' schifo. Anzi, sto... Sono diventato fan su Facebook. E domani vi linkerò, vi dirò chi è di un apicoltore che fa il miele qua in zona Milano. E mi piace perché è importante. A parte che faccio colazione col miele tutte le mattine, ma è importante supportare chi fa apicoltura. Le api sono importantissime. Io fanno per la preservazione di tutto. Dei videogiochi, ma anche dell'esistenza umana. E le api sono molto importanti per l'esistenza umana. Un super eroistico Batman The Movie per Commodore 64. Ovviamente non al mattino, certo. Beh, c'è roba da fare post-prandiale. Potrei fare quasi un Batman Returns per Super Nintendo. E prendiamo Dazzler. Come si chiama Dazzler in italiano? Guarda che pizze che tira Dazzler. Pss! Oh, Ed Funky, vedo... Ed Funky è un voto per Batman Returns. Su Super Nintendo o su Mega Drive? Quindi Milano sarà la nuova New York. Capicoltori sui tetti. Sarebbe bello, ma... In realtà lo fa appena fuori Milano. Perché comunque credo che l'area di Milano... L'area di Milano non sia la migliore... Per... Fare apicoltura. Eh, che sprite! Sembrano E.T. Come si rimpicciolisce. Calcio in the face. Anche il tuo suocero fa il miele e anche l'olio d'oliva. Grandissimo. Anch'io da quando mi sono sposato ho olio perenne perché lo zio di Marta va sempre a raccogliere le olive. E tra l'altro quest'anno è una roba che volevo... Volevo fare. Volevo andare da qualche parte dove si raccolgono le olive. Anzi, se volete venire con me... Facciamo il raduno... Che nobisbocch del lavoro manuale. Non sto scherzando. Io andrò sicuramente a fare la raccolta delle olive quest'anno. Se volete venire con me... Siete benvenuti. Oh, grande Jax che ci vieni a raccogliere le olive. Torniamo da Wolverine. Il ghiottone. Perché il Wolverine è una creatura che esiste veramente. La traduzione italiana è ghiottone. E infatti mi faceva rendere perché c'era una carta di Magic che era il ghiottone delle nevi. Alban, sei trovato i braccianti? Anche tu fai la raccolta delle olive? A questo punto veramente organizziamo il raduno... Lavoro manuale di che nobisbocch. Attaggia, visto che sei già pratico della Liguria. Che bella. Beh, sono un... Un grandissimo fan delle olive taggiasche. Buongiorno Westfall. Stiamo parlando di raccogliere olive. Un centinaio di piante. Quanto lavoro... Chiedo proprio per l'ignoranza, eh, Albans. Quanto... Quanto lavoro sono un centinaio di piante? Non lo so. Posso dire che i nemici sono un po' ripetitivi? Posso dire che è bello vedervi in 151 al mattino per il retro gaming? Ciao a tutti, buongiornissimo. Io sono Kenobi. Il mio caffè? Mi ero dimenticato il caffè? Bello freddo come piace a me. Senti che audio, matto? Wolverine, il ghiottone. Se dovessi essi... Allora, Wolverine è il mio supereroe preferito di quelli lì che ci sono nel mondo Marvel. Mi piace molto, Wolverine. Cos'è il wolf? Jax? Non lo so. Stavamo parlando di raccolta di olive. Per chi fosse appena connesso adesso. Caffè freddo uguale gioco bello. Esattamente. Esattamente. Buongiornissimo, Kage. Kage Ox. Kage o Kage? Kage, sarebbe lo pronunciamo correttamente, vero? E vabbè, se mi devi lanciare i carri armati in testa, io cosa faccio? Mi scrivi ai terroristi. Continuiamo. Mi farò sei vite questa volta. Me le farò con Storm, che mi era piaciuta. Ghiottone, no. Se traducevi Wolverine con ghiottone, veramente ti trovavi fan con la bava alla bocca. Ma giustamente. E' che ci sono alcuni animali che fanno bruttissimo nel mondo reale, ma che hanno dei nomi un po' buffi. Anche solo di Honey Badger. L'Honey Badger è il tasso del miele in italiano. Ed è una bestia cattivissima, che fa un male pazzesco. E me lo sono trovato in Far Cry. E però cosa ci devi fare? E' il tasso del miele. L'ho risolta in Far Cry scherzandoci un pochettino. Oh, grazie. Kage nella conferma. Buongiorno, Shamal. 69. Sto giocando a X-Men Konami 1992. E vabbè, però, se mi dovete gangbangare così... Se vi siete appena connessi, questo è Buongiornissimo Arcade. Io sono Kenobit e questa cosa qua matta la facciamo tutte le mattine alle 8 e mezza, dal lunedì al venerdì. Questa sera invece ci saremo io e Surgo con una serata dedicata a Nintendo. Sarà una serata di amore Nintendo. Vedrete come mai e vedrete perché. Vi posso dire che ho invitato il Magiustra. Il Magiustra purtroppo non può venire, ma il Magiustra ci ha preparato una selezione di giochi. E quindi sarà con noi in chat e nello spirito. E soprattutto nella selezione di giochi. Cosa dicevo ieri? Dicevo che nei picchi a duro scorrimento odio i boss che volano. Mannaggia. Non ti ho letto, Jax. Ah, volontariato agricolo in cambio di vitto e alloggio. Fighissimo, Jax. Adesso ti ho letto. Vieni, vieni, scendi che ti picchio. Però poi mi cadono i massi in testa. Lanciatelo quel sasso. Così io poi vi picchio. Guardate che bello questo cielo in tempesta che c'è dietro. Guardatelo. Bellissimo. Sono. Chi è lui? Optimus Prime? No, non lo è, però. Guardati, ho trovato il punto in cui lo uccido così, secondo me. Eh? Non è un caso se mi chiamano il Jimi Hendrix. No, non è vero. Nessuno mi chiama il Jimi Hendrix del joystick, ma dovrebbero, insomma. E abbiamo liberato lei, Franca Rame. No, non... Buongiornissimo, Videobigini. Subito una cutscene. Non spiegata. Non c'è musica qua. All'improvviso non c'è musica. No, è ripartita. Eccola. Oh, io comunque userò solo Storm da adesso in poi. Troppo più forte. Caduta nel fosso. Andiamo. Sono il Jerry Lee Lewis delle pulsantiere. Sarebbe bellissimo. In effetti è ancora più retro dire Jerry Lee Lewis. Ma Tempesta non usa i fulmini per attaccare? No, qua ti prende a bastonate. Ti prende a vergate sul membro. Come... Ma, fa cool. Era Kitty Pryde la ragazza che ho salvato. Possibile. Il mio più grande contatto con Kitty Pryde è la canzone dei Weezer. Quella canzone bellissima sul Blue Album dei Weezer che si chiama... In the Garage. Che diceva che aveva i poster nel suo garage dove giocava a D&D e dove suonava la chitarra. E aveva il poster di Kitty Pryde e di Nightcrawler. I've got Kitty Pryde e Nightcrawler too. Waiting there for me. Yes, I do. Giustamente Jax vi ricorda di segnarvi la data. 17 maggio all'Ottobita Club. Ci saremo... Festeggeremo il trentesimo compleanno del Game Boy. Guarda, con una mano sola oggi ho il virtuosismo del joystick. Saremo io, Cipzel e Sabre Pulse a festeggiare con un concerto il Game Boy. Perché il Game Boy compie trent'anni. Cosa sono? Cosa sono? Aiuto! Aiuto! Salto! Via! Scappo! Silver Sable! Cosa fate? Basta! Lasciatemi in pace! Vero che sembrano etico ai nemici? Che sbatti? Adesso lo scrolli in verticale. Con questa schermata beige. Bella, eh? Questo è il momento in cui Konami dice Ma chi ci arriva qua? Chi vuoi che ci arrivi qua? Facciamola sta schermata marrone e basta. Tanto poi arriva Kojima e facciamo i soldi. Con Metal Gear Solid, dicono. Buongiorno Raziel! Sto un po' spammando i poteri che mi fanno male. In sala giochi non lo farei mai, ma qua Avendo i crediti infiniti e visto che l'obiettivo è vedere il finale con voi Attenzione! Il faccione! Il faccione che vomita un mini! Buongiorno Mr. Elboy! Che figo, la galera! Graficamente è un giocone giochissimo, eh! Move on! Vai avanti! Vai avanti tu che a me mi vieni da ridere! Allora, i nemici sono sempre uguali. Il faccione è magneto! Sembra più Galactus così. Allora, diamo un'opportunità a Nightcrawler. Prima l'ho usato poco. Ciao Keno, salutori dalla Germania! OLED! Il tuo OLED organico mi rincuora! Dove sei in Germania? Oh, gli è caduto il casco! Mi piace tantissimo l'idea che al mattino siamo qua tutti insieme anche con persone che non sono in Italia. Buongiornissimo Rayel! Guarda che mosse che ti fa Nightcrawler! Guarda che te ne fa un'altra! No, non può. Ne ha finite. Però lui è morto. È morto da solo, è morto di... Di infarto. Sei vicino a Colonia. Ah, è un potere mutante speciale. Può essere usato solo quando l'energia è a tot o meno. Ok. Attenzione, ero in sedia a rotelle, ma adesso ho le tette e tu cadi. Va così. Posso cercare su internet. Ma fatti cazzi, tu hai Google. Posso cercare su internet. Cosa vuol dire? Mi piace Google che ogni tanto interviene negli stream. E vabbè, allora... Ok, Google. Quanti livelli ha X-Men di Konami del 1992? Eh, ma se mi apri e basta Google, va bene. Senti, poi devo andare a correre. Ok, Google. Che temperatura c'è oggi a Milano? Oggi a Milano ci si aspetta una massima di 18 gradi e una minima di 11. Vabbè, dai. Per essere dicembre non è male, eh. Ok, Google. Raccontami una barzelletta. Vediamo un po'. Come si chiamava il più famoso giudice italiano? Massimo della Pena? Mamma mia, Google. Si è fatto anche il trombone da solo. Ma bellissimo. Ok, Google. Raccontami una barzelletta. Ecco, cosa fanno due squali in una gara? Si squalificano. Sjord giustamente usa l'emoticon di Cikibe che salutiamo, quello della finestra. E mi dite giustamente di smettere di dire va bene motore di ricerca. Perché se dico va bene motore di ricerca in quel modo si attiva il vostro e giustamente vi si ferma lo stream. Però non è un'idea stronzissima usare lo stesso più vocale per tutto il mondo. Come quando mi raccontava Andrea Babic che quando era arrivato Kinect in Ubisoft c'erano i comandi vocali di Xbox e potevi dire Xbox spegniti e c'era qualcuno che lo diceva allo speaker dello studio e si spegneva tutto. Tutte le console su cui tutti stavano lavorando si spegnevano. Però trovo veramente stupido usare lo stesso Q vocale per attivare lo stesso motore di ricerca per tutti. Ma io torno dal mio amore, tempesta! A me Google lo attivano sia Sabaku che Moro e abbiamo tre voci diverse. Vabbè ma certo, secondo me tutti attivano Google. Vero che è ridicolo che non si possa personalizzare ancora la frase di attivazione. Io suppongo che sia anche perché in questo modo loro hanno un sacco di riferimenti e riescono a perfezionare la risposta vocale perché tutti usano la stessa e quindi quella roba lì la riconoscono in tutte le situazioni. Questo gioco mi fa venire in mente un gioco che giocavo da piccolo nelle sale giochi. E quale? Un movimento egizio? Mi piace il movimento egizio. Tempesta che in uno dei mondi alternativi era impegnata sentimentalmente con Logan. Beh ma io se fossi una donna vorrei Wolverine assolutamente. Forse no. Però mi piace Wolverine, il personaggio figo. Mi ricordo che mi aveva divertito anche un gioco in era Xbox su Wolverine. E attenzione, adesso c'è quello d'oro ma... Uuuuh, è un box veramente pericolosa. Devebbero essere otto livelli. E a che livello sono? Vai a sapere. Se sono otto livelli non è possibile finirlo nello stream del mattino. E beccati sta tempesta. E beccati sta tempesta, sei morto? Ti è esplosa la testa perché sono troppo figa io essendo tempesta. Attenzione, c'ho una macchia brillante sulla pelata perché me la sono lucidata col Mastro Lindo. Quanto è bello il Blackbird che usavano. Trovato, Metamorphic Force, era sempre Konami. Oh, bello. Sai che non ce l'ho presente, Rayel, in questo momento? Hai visto che scossa che ti do se rimani per terra? È una telenovela, tutti sono stati con tutti nei fumetti. Va bene, ma è una roba che ci sta alla fine. Alla fine se sei diverso, se hai dei superpoteri, c'è solo una persona con i superpoteri ti può capire. È una roba che mi torna a livello narrativo. La musica è notevole, non so quanto la stiate sentendo bene, ma è notevole. Continuiamo con un po' di Cyclops. E l'ossigeno non la gravitare, ma insomma... Che pignolo che sei, Sjorduno. Ricordate Fascisti su Marte di... Come si chiama? Di Guzzanti. Quando arrivavano la spedizione fascista su Marte e realizzano che non c'è l'ossigeno e guardano il busto di luce e fa... Non c'è l'ossigeno? Io me ne frego! Mi aveva fatto molto ridere. Cos'era? Dentro il caso scafroglia... Barbagli! Ecco qua. Quanto farebbe ridere se Cyclops si chiamasse in realtà Barbagli? Sento odore di Boss Rush. Volete dirmi che sono alla fine? Non credo. Posso dire che Cyclops è l'X-Man col potere più brutto? Sì, hai il diritto di dirlo. Però poi mi devi dire, secondo te, qual è l'X-Man col potere più bello. Ti prendo a calzi sulla pancia. Il potere dell'occhio della madre! Ok, sento odore di Boss Rush, quindi potrebbe essere un finalino. Però qua, alcuni boss si possono fare così. No. Disse lui morendo! Prenderò... Prenderò... Colossus! Allora, il mio supereroe preferito... Cioè, io ci penso... Allora, a me era piaciuto molto la prima stagione di Heroes, perché mi piaceva molto il concetto di poteri magici, cioè poteri supereroici nel mondo reale. C'era in Heroes, non mi ricordo che personaggio che guardava le cose e imparava a farle. Quello è il mio sogno. Quello che guardava il pianista e diventava un pianista perfetto. Poi, purtroppo, lo sciopero degli sceneggiatori mandò completamente in merda Heroes. Peccato. Però la prima stagione di Heroes era veramente fichissima. Eh, Dottor Manhattan! Ah no, appoggio il Dottor Manhattan. Ciclope è personaggio odioso. Ci sto. Prendiamo... Dazzler, lo scugnizzo. Che non mi ricordo come si chiama. Come si chiama lo scugnizzo in italiano? Ciao Lady Alexis! Questo boss rush mi fa sperare di essere verso la fine del gioco. Non ha nome in italiano. Allora lo chiameremo noi. Se è Dazzler, quindi è una roba uno che fa... Lo chiameremo lo sciantoso. Ho sbagliato Mira. Sciantoso, hai sbagliato Mira. E continuiamo con... Non ci è piaciuto. Continuiamo con Wolverino! Lo score non si azzera. Allora sì che batti il record. E in effetti sì, pezzo di nerd. È una signorina. Allora la chiamiamo la sciantosa. Lui è morto. Ciao Magneto! Sono veramente molto ignorante sugli X-Men. Tu Wolverino Gaetano! Ti faccio un po' di magie. Tanto ho le vite... Userò Wolverine per finirlo, ho deciso. E beccati ste magie! Ma in realtà non era... Magneto! Dazzler ha poteri abbastanza scrausi, ma molto che nobitiani. Trasforma il suono in luce! Che figata! Lui è il vero Magneto! Magneto! Il Magneto ottico, ai tempi dei floppy, teneva 100 Mega sul floppy, sul floppone i Omega. Il cosiddetto Magneto ottico. Ci stavano effettivamente più di 100 Mega ai tempi in cui sui floppy ci stavano 1,44 Megabit. E vabbè, però Magneto, così sei troppo ottico. Io ti sto spammando i poteri. Che musica alla Castelvania! Ebbè, non a caso è Konami! C'è del Konamismo! Lo zippone dello Iomega, grazie Albans, che te lo ricordi! Clic, clic, clic! 100 Megabyte di dati brasati per sempre, esattamente. Era un po' una chiavica il Magneto ottico. Non c'è come spammare gettoni per finire X-Men! Nick Channel 76! E tutti voi C54 di prima mattina per vedere il finale di X-Men! 1992 Capcom durante buon giornissimo arcade! Nota! Il gioco non è ancora finito, ti dice. Non te ne andare! Magneto è sconfitto, gli X-Men! Anno, bla bla bla! Specifica che non è ancora finito il gioco! Visual Design! Vediamo se li fermo o se si leggono! No, non si legge praticamente niente! Genkidama! Ho deciso che il prossimo emote da mettere sul canale sarà la Genkidama! Che musica! Bellissima la musica! Ringraziamenti speciali a Yatano! Young Man! Young Man! Che immagine! E mi rifai cominciare da capo così! Vabbè, finisco il gettone! Non si butta niente! Non si spreca il cibo! Non si sprecano i gettoni! Nel frattempo colgo l'occasione per... Però finirò in grande, cioè non sprecherò il gettone ma lo finirò andando avanti a cannone e sprecando il potere magico così muoio subito! I gettoni sono come il maiale! Guardate, avete visto che bello? Il gettone Kenobi's Boch che è stato craftato da combo completa! E sono morto, così! È un game over? Vediamo la schermata di game over! Game over? Un po' deludente! Fammi mettere il mio record però! Amici, amiche, abbiamo giocato insieme a X-Men 1992 Konami Questo è Kenobi's Boch, questo è This is Kenobi's Boch Tutte le mattine facciamo buon giochissimo arcade alle 8 e mezza Oggi ci sarà anche il post brandiale Dove giocherò su Super Nintendo a Batman Sto facendo una settimana dedicata ai supereroi in attesa di Babich Che tornerà settimana prossima E soprattutto vi do appuntamento a questa sera Serata Super Nintendo con me e Ugo Laviano Surgo Quindi, amici, amiche Vi saluto, chiudo la registrazione per YouTube Buona giornata, buongiornissimo Buonissimo che questa giornata diventi un po' più sonneggiata Perché qua Milano al momento fa cagare Ciao!